Musica Lavoratori dal Sulcis in protesta oggi a Cagliari, lavoratori in utilizzo, Dalcas e Xila, disoccupati di Sant'Antioco in tanti hanno presidiato sotto il palazzo della regione per rivendicare il diritto al lavoro e alla ricollocazione. Rino Barca della Cisle, il Sulcis è una polveriera. Acqua, gestione autonoma per i comuni del Sulcis, dalla regione un impegno per consentire a Domus Novas, Fluminimaggiora e Nugis e di continuare a gestire autonomamente la risorsa idrica rimanendo fuori da Banoa. Azzeramento IRAP, la Giunta prova i criteri per le nuove aziende. L'assessore al bilancio è Raffaele Pacci, corriamo per rilanciare l'economia della Sardegna e attrarre gli investimenti. Flumin tepido, discarichi a cielo aperto, cittadini di carbonia infuriati per la presenza di cumuli di amianto, elettrodomestici, materiali e rifiuti di ogni genere. Non siamo cittadini di Serie B. Ben ritrovati nel telegiornale di Canale 40. Il mondo del lavoro sul citano si è riversato a Cagliari questa mattina sotto il palazzo della regione mettendo in campo numerose proteste dai lavoratori socialmente utili a quelli della Dalcas, Exila e Disoccupati di Sant'Antioco. Un coro unanime si è rivolto al presidente Pigliaru e alla sua Giunta. Create le condizioni per permetterci di lavorare. A Cagliari questa mattina c'era anche Rino Barca della FSM Cisle che abbiamo raggiunto telefonicamente. Sentiamo. C'era una buona rappresentanza soprattutto del Sulcis ma c'erano anche lavoratori del Medio Campidano, qualcuno anche della zona di Oristano e qualcuno di Macomere, dei lavoratori in utilizzo della Sardegna che sono un po' quelli dimenticati da tutti. Sono questi lavoratori che sono i più precari dei precari, quelli che stanno esercitando un servizio presso gli enti. Però Rino, l'assessorato del lavoro ha detto che i cantieri verdi dove loro potranno essere ricollocati stanno per partire e ha mandato ai comuni di approvare le bozze dei progetti. Ma io non so se il fatto che noi abbiamo proclamato questa iniziativa oggi, solo ieri sono stati consegnati le bozze dei progetti dei cantieri verdi ai comuni. Quindi solo ieri. Quindi aveva ragione qualche sindaco quando mi ha interpellato mi diceva che non ne sapeva nulla. Di quali tempi stiamo parlando perché i comuni possano elaborare questi progetti? La regione ci ha detto che nel tempo di qualche giorno questi progetti possono essere redati e approvati per dare poi la possibilità a questi lavoratori di essere assunti a tempo determinato. E anche qui è una novità positiva perché a questo punto quei lavoratori potranno avere non solo una retribuzione ma anche un contratto e quindi anche una posizione assicurativa. A parte i lavoratori in utilizzo, abbiamo anche sempre oggi a Cagliari i lavoratori d'Alcas, quindi a Tifras, abbiamo i lavoratori ex Ila oggi Portal, abbiamo anche i disoccupati di Sant'Antioco che si sono schierati a favore del progetto delle terme proprio per dire noi ci siamo e vogliamo lavorare. Mi sembrano tutte giuste rivendicazioni, io dico che ne mancano anche altri, i lavoratori a presenziare a quella, mancano i lavoratori dell'Alcoa, mancano i lavoratori degli appalti dell'allumina, cioè il sulci sta diventando una polveriera. Il sindacato sta procedendo in modo compatto per risolvere questi problemi, per mandare avanti le manifestazioni del caso? Ma vediamo nei prossimi giorni di trovare una quadra unitaria sull'affrontare i problemi, per quanto riguarda le vertenze con i metalmeccanici, io che seguo quella categoria, posso dire che per quanto riguarda l'Aila, per quanto riguarda l'Alcoa, per quanto riguarda le altre vertenze abbiamo una certa compattezza anche perché sono i lavoratori che ci mettono assieme, sono i problemi che ci mettono assieme. Gestione autonoma dell'acqua, 11 piccoli centri montani manterranno una gestione autonoma della risorsa idrica. Per i comuni del Sulcis, Domusnovas, Nugis e Flumini Maggiore, un provvedimento legislativo dovrebbe andare incontro alle esigenze degli amministratori, come riferisce il sindaco di Domusnovas, Angelo Deida, facendo riferimento a quanto detto ieri dall'assessore Manincheda nel corso dell'incontro. Ieri c'è stata un'importante riunione a Cagliari per quanto riguarda Abanoa, è stato avviato un tavolo e ci sarà, è stata decisa l'autonomia per 11 piccoli centri montani, ma per i comuni del Sulcis, Domusnovas, Flumini Maggiore e Nugis, che cosa si prospetta? Intanto non è stata una riunione per Abanoa, è stata una riunione per cercare di trovare la soluzione per la gestione del sistema idrico integrato locale e devo dire che ho trovato una persona molto determinata, l'assessore Manicheda, che ci ha ben accolto e soprattutto ha dimostrato di avere le decchiare su come impostare questa problematica. Dei 25 comuni li ha classificati in tre fasce, i primi hai fatto bene tu a dire che gli 11 sono quelli che rientrano nella legge nazionale e quindi possono gestire se all'interno dell'atto le proprie risorse e che quindi li accompagnerà affinché venga fatto questo risultato. Seconda fascia sono quei comuni che gestiscono attualmente il sistema idrico integrato, però comprono l'acqua da Abanoa e quindi siccome che il gestore unico è Abanoa, lui dovrebbe chiedere a Abanoa, rinunciate voi perché la legge invece dice che è Abanoa che deve gestire, rinunciate voi perché vogliono continuare a gestire quello. Terza fascia che saremo noi, quelli che da dieci anni stanno facendo le battaglie per arrivare a una soluzione, mi ha detto per voi, non ho niente da dire, avete l'acqua, ve la gestite bene, non chiedete una lira alla regione e quindi questo può essere un motivo in cui la politica dovrebbe risolvere, la politica perché c'è anche dentro l'ambito territoriale, riconoscete l'ambito, quindi voi alla politica risolvere la soluzione. Ecco, voi avete già presentato un disegno di legge in Consiglio regionale, ecco noi dobbiamo far sì che la politica faccia una convenzione con voi e dica Abanoa, lascia perdere questi qua, a questi comuni gli diamo, pur riconoscendo il gestore unico, riconoscendo non vuol dire che deve gestire il servizio, è tanto per non smontarlo, capito? E vi dico tranquillamente, vi diciamo tranquillamente che questo è un percorso che si può fare. La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità applicative dell'azzeramento dell'IRAP per 5 anni alle nuove imprese, contenuto nella manovra approvata dal Consiglio regionale a fine febbraio e diventata legge il 9 marzo scorso. Questo è uno dei provvedimenti più importanti contenuti nella manovra 2015 e vogliamo che sia immediatamente operativo, ha spiegato l'assessore della programmazione del bilancio, Raffaele Paci. Stiamo dicendo alle aziende di crederci e di venire qui ad investire perché oltre a trovare un'altissima qualità della vita, per ben 5 anni non pargheranno neanche un euro di IRAP. Non solo ha aggiunto il vicepresidente della regione, passati 5 anni quelle stesse aziende avranno la certezza di un taglio del 25% permanente al quale si aggiungono gli sgravi contenuti nella legge di stabilità nazionale. Apriamo questa seconda parte del TG40 parlando di flume intepido, frazioni di carbonia. Lo facciamo prendendo in considerazione le numerose segnalazioni giunte alla nostra redazione da parte degli abitanti della zona. Troppe discariche a cielo aperto denunciano i cittadini e come possiamo notare nelle immagini. Dall'amianto ai vecchi elettrodomestici, materassi, cavi elettrici e plastica di ogni genere. Non manca davvero niente, c'è persino un cartello di divieto che neanche a dirlo è stato posto dagli stessi cittadini per ricordare agli incivili che non si possono abbandonare i rifiuti a bordo strada. E speriamo che dopo queste segnalazioni chi di dovere faccia qualcosa per risolvere questo problema ambientale. Provincie commissariate dall'assessorato regionale agli enti locali assicurano risorse sufficienti per pagare gli stipendi per tutto il 2015. Vediamo. I commissari delle province sardi hanno garantito la copertura degli stipendi dei lavoratori dipendenti in ruolo per tutto il 2015. La notizia è emersa nel corso di una riunione che si è tenuta ieri all'assessorato regionale degli enti locali con i commissari di Cagliari, Medio Campidano, Carboni e Glesias e Ogliastra. La provincia di Cagliari ha poi precisato che ci sono risorse per pagare i lavoratori precari soltanto fino al 31 luglio. Anche di questo si è discusso ieri mattina durante l'incontro tra gli assessori regionali degli enti locali Cristiano e Rio, degli affari generali Germano di Muro, del lavoro Virginia Mura, i rappresentanti dei sindacati confederali Cigelli e Cislewil, Funzione pubblica, convocato per fare il punto sulla riorganizzazione del personale delle province. In attesa del riordino degli enti locali, il cui testo è prossimo alla discussione in Consiglio regionale e alla luce di quanto previsto dalla legge del Rio del 2014, disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, il tavolo ha concordato sulla necessità di assicurare la prosecuzione del lavoro di analisi, delle funzioni in corso e di monitoraggio, anche in previsione dell'impatto sugli equilibri finanziari delle province, contenuto sulle disposizioni della legge nazionale di stabilità. Iglesias è tra i 16 comuni selezionati dal Comieco e dalla regione Sardegna, che hanno aderito al club dei comuni ecocampioni di carta e cartone. L'invito è stato formalizzato dall'assessore Donatella Spano e dal responsabile area riciclo e recupero del Comieco, Roberto Di Molfetta, tra i rappresentanti dei comuni sardi che si sono distinti per un'efficace gestione della raccolta della carta e del cartone. L'adesione comporta l'attivazione di un percorso comune finalizzato ad un ulteriore miglioramento delle performance di raccolta, grazie al supporto garantito da Comieco e dalla regione Sardegna. L'obiettivo del progetto è di diffondere le buone pratiche della raccolta differenziata, promuovendo l'esperienza dei comuni che vantano risultati di eccellenza. Con il Cammino Minerario di Santa Barbara, un pezzo di Sardegna è su Veribello, il sito ufficiale del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo per Expo 2015, grazie alla Rete Nazionale dei Camini, a cui aderisce l'Associazione Onlus Pozzo Sella per il Parco Geominerario, il Cammino Minerario di Santa Barbara è stato inserito sul sito ufficiale del Ministero, che in poco tempo ha fatto registrare quasi 3 milioni di contatti. Si tratta di un importante risultato in vista della presentazione ufficiale del cammino, fa sapere l'Associazione Pozzo Sella che potrà essere effettuata in più occasioni agli operatori intenzionati nell'ambito del Expo 2015, grazie all'impegno che proprio in questi giorni stanno dedicando i comuni interessati e la Regione per dare attuazione al protocollo di intesa per la costruzione e la gestione del Cammino Minerario di Santa Barbara. L'Associazione Centro Down Onlus ha organizzato per sabato 28 marzo alle 15.30 un incontro con le famiglie intitolato Famiglie, opportunità e scelte, ruolo e contributo positivo nella vita delle persone down. All'incontro che si terrà nella sala Giovanni Paolo II, secondo della parrocchia Beata Vergina Dolorata di Via Liguria a Carbonia, interverranno i vertici del Centro Down, pedagogisti e persone con sindrome di Down insieme ai familiari. Al termine degli interventi si aprirà un dibattito. L'Università Popolare del Sulcise, Sischiglia Onlus, col patrocinio del Liceo Scientifico Paritario Pirandello, presenta oggi alle 17 presso la sede dello stesso Liceo a Carbonia la conferenza della professoressa Sabrina Sabiù, laureata in filosofia, si occupa di beni culturali e storia locale e affronterà il tema le ferrovie di miniera. E con questa notizia termina il nostro telegiornale, adesso le previsioni del tempo e poi il Tg in lingua sarda, Noas in curso. Vi ringrazio per aver seguito il Tg di Canale 40. Per questo mercoledì 18 marzo è prevista nuvolosità innocua. Vento da est con intensità di 10 km orari. Raffiche fino a 24 km orali. Temperature minime comprese tra i 6 e 10 gradi e massime comprese tra i 16 e 20 gradi.